Il mio libro. I miei libri. La mia casa. Le mie case. Il nostro libro. I nostri libri. La nostra casa. Le nostre case. Il tuo libro. I tuoi libri. La tua casa. Le tue case. Il vostro libro. I vostri libri. La vostra casa. Le vostre case. Il suo libro. I suoi libri. 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 La loro casa. Le loro. I suoi libri. Case. Grazie.